illustriamo ora rapidamente la pagina lista selezioniamo quindi il tab lista ecco e qui compaiono la lista delle notifiche che ci sono pervenute ecco quelle che sono state recitate compare un pallino pieno sulla destra quelle che sono state interrotte con uno shake ad esempio comparirà un pallino un mezzo pallino e quelle che sono in fase di recitazione comparirà dei puntini notifica in progress ecco per esempio ecco per sentire una vecchia notifica ci basta tenere premuto sulla notifica stessa lettore di notifiche free ok ora un'altra cosa che possiamo fare ad esempio ricaricare la lista quando notiamo che magari certe volte può capitare raramente che non siano allineate magari schiacciamo su una notifica ce ne viene recitata un'altra ora con un ricarica lista ripristiniamo tutto ecco self test lo faremo le prime volte oppure quando vogliamo capire se il sistema sta andando se non ci sono problemi col motore di sintesi vocale eccetera eccetera premiamo lettore di notifiche frittata la notifica diciamo di prova e infine cancella lista notifiche ecco è una cosa che io non consiglio di fare poiché il sistema riceve continuamente le stesse notifiche se non le leggiamo nel nell'app che le sta generando e di conseguenza il sistema utilizza questa diciamo lista di notifiche come memoria per prevenire la ripetizione dei vecchi messaggi quindi io risponderò no ok